Ciao a tutti e ben ritrovati al rifugio del neurone. Oggi parliamo di relazioni. Quante volte ci è capitato di essere in disaccordo con qualcuno? Un genitore? Un collega? Un amico? A proposito di questo oggi voglio condividere con voi una metafora che è un po' strana, ma statemi a sentire. L'ho chiamata la cellula. Immaginate che la particella di un'unghia possa esprimersi a proposito della cellula di un occhio per esempio. Direbbe quella lì è una persona viscida, appiccicaticcia, non mi fiderei mai di lei. E lei risponderebbe persona rigida, inflessibile, tutta in un pezzo. Eppure fanno parte del solito grande insieme. Così succede anche con le persone. Quando ci scontriamo creiamo un conflitto interno al sistema ed è una cosa veramente poco saggia, visto che facciamo parte del solito insieme. Ormai anche la fisica quantistica l'ha dimostrato. Ognuno di noi è parte del tutto con ruoli diversi. La vita ci ha scelto così come siamo. Abbiate fiducia!